Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Allora Maria disse al uomo, le rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te. Il Spirito Santo. Ribadisco il mio appello a tutte le parti coinvolte affinché il conflitto non si allarghi e si cessi immediatamente il fuoco su tutti i fronti a partire da casa dove la situazione humanitaria è gravissima e insostenibile.